Nel messaggio del Papa per la giornata missionaria mondiale c'è proprio far conoscere la parola di verità, farla emergere. È una verità che poi deve diventare carità. Quindi il missionario vuole andare in tutto il mondo, soprattutto in situazioni anche complesse, difficili, pericolose, sotto certi punti di vista, per parlare di questa parola di verità e farla poi tradurla in pratica, in gesti carità. Non è sempre possibile. Noi lo vogliamo sempre fare e il rischio oggi è di estremezzarsi, di scoraggiarsi di fronte a certe situazioni, rinunciare al dialogo, dire no, non si può, bisogna lottare, resistere. No, bisogna continuare a credere che la parola di verità può davvero illuminare tutti i cuori ed è anche urgente che questa parola diventi fatto, diventi gesto di solidarietà, di amore, di aiuto. Ecco, noi missionari stiamo facendo questo e vorremmo tanto che in questo mese, non solo nel mezzo d'ottobre, ma soprattutto in questo mese, le comunità si interessano un po' di più di quello che stiamo facendo, il perché lo stiamo facendo, non solo i pericoli, ma anche le gioie che ci sono. Ieri è vero, questo fatto increscioso della bomba nella chiesa di Nairobi è terribile, ma milioni di keniani si sono riuniti nelle chiese, hanno pregato e probabilmente, anzi, certamente subito dopo la celebrazione si sono riuniti per discutere i problemi delle comunità locali, hanno certamente raccolto anche fondi per i poveri, perché c'è sempre la fame, eccetera. Quindi non c'è solo male dal sud, non arrivano solo notizie negative, ci sono anche notizie buone, belle. Insomma, il regno di Dio sta andando avanti, con fatica, ma sta andando avanti.